Buonasera e benvenuti qua in questa magnifica location per questa ultima opera che presentiamo che è la fine di un percorso che è stato fatto di un mese di lavoro con l'università americana, penso University, e cantanti che vengono un po' da tutta l'America. Ieri e l'altro abbiamo fatto due opere al seminario di Smovile, di Mozart, la fuga della Viniere, mercoledì uno spettacolo di aria e opera Spazio Seme e questa sera concludiamo con questa breve opera di Umberto Giordano che si intitola Mese Mariano, ambientata in un monastero per questo location. Con questo si conclude il programma e ringraziamo per direttamente questa presenza di università americane qua ad Arezzo e vi auguro una buona grazie a tutti. 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 a tutti.